Eccomi buonasera, buonasera Il distanziamento sociale deve stare nel DPCM a 500 metri da me Sono distantissimo, sono proprio contento di essere tornato Anche se il mio più che un ritorno è una seconda ondata Sono molto contento di essere qui in studio con voi a fare un bel focolaio Ora però chiedo gentilmente alla regia di spegnere il microfono di Massimo Gramellini Come è stato spento il microfono di Donald Trump durante il dibattito quando parlava Biden Perché anche io voglio parlare con i telespettatori, devo fare servizio pubblico Cioè vi devo ricordare che stanotte torna l'ora solare Quindi le lancette vanno spostate un'ora indietro E cioè da domani avremo un'ora in più di coprifuoco Non siete contenti? Un'ora in più di coprifuoco Ma non solo, con l'ora solare la conferenza stampa di Conte Non sarà più in ritardo di un'ora e mezza ma di due ore e mezza Ovviamente c'è una certa confusione che l'ora solare coincide appunto con l'arrivo di questo nuovo DPCM Che a quanto pare chiuderà l'Italia alle 18 Ma saranno le 18 solari e quindi le 19 legali o le 18 legali e cioè le 17 solari I anni potranno correre senza mascherina o solo in senso anti-orario Ma soprattutto pare che nel nuovo DPCM non si potrà essere a tavola in più di 4 4 solari o 4 legali? Faccio a capire una confusione Tra l'altro forse stanotte noi dovremo dire addio all'ora legale per sempre Perché l'ora legale è stata abolita un anno fa dall'Unione Europea E adesso aspetta ai paesi membri decidere entro aprile se adottare o no l'ora legale Capirai? Noi in Italia non decidiamo sul MES, non decidiamo sul Recovery Fund Figurati se decideremo sull'ora legale Io già mi aspetto che il Premier Conte scaricherà il barile su regioni e comuni Salvini dirà che ciascuno può fare autonomamente come vuole con l'ora legale Salvini dirà che vuole uscire dal fuso orario europeo e vorrà spostare, cambiare il meridiano di Grinic Con il meridiano che passa per Cernusco sul Naviglio Mentre il Movimento 5 Stelle dirà che chiederà allora sulla piattaforma russo Gli iscritti potranno decidere che ore sono in base a come gli gira Comunque non solo orologi Questa settimana si è parlato molto anche di tamponi e l'app immuni che non funziona Test rapidi, la ministra Azzolina in TV si è confusa fra test rapidi sierologici e test rampidi antigenici Che è stato un po' un test rapido per dimostrare che la Azzolina non è in grado di fare il ministro Ma comunque insomma, pare adesso il governo ha annunciato l'arrivo di tre test rapidissimi Per scoprire il virus, tre test rapidissimi Primo test questo, lettura della mano Non si capisce se sei positivo però si capisce se le hai lavate bene Secondo test rapidissimo Lettura dei fondi dello sputo Uno, puto dentro la tazzina Se si intravede la forma della prostata di briatore vuol dire che sei positivo Terzo, test rapido, probabilmente il più rapido di tutti Pivetti, scelga una carta Come faccio? Rapida, da distanza Questa Fante, negativa Fante è negativa perché il Fante non fa sembramento, sta da solo Quindi perfetto, brava Se pigliavo un 10 Questa è negativa Gramellini, scelga una carta Da qui, sempre da lontano da lei Da distanza Qua, perfetto La matta Redi Denara Positivo Gramellini è positivo C'ha la corona Si vede, non avevo dubbi che Gramellini sarebbe stato lontano Qua dentro Non avevo dubbi Comunque Speranza Ce n'è Visto che è una parola che ricorre questa settimana Che si parla molto di vaccino Si è parlato moltissimo di vaccino in questi giorni Un po' perché è girata tanto questa notizia Relativa a un iscritto A un volontario dal vaccino Che è morto in Brasile Ma non è morto a causa del vaccino Cioè era un volontario del vaccino Non ha mai in realtà preso Non gli è mai stato somministrato il vaccino È morto per conto suo Il vaccino non c'entra niente Quindi la notizia in realtà è È morto uno in Brasile Cioè punto Ha detto che esce a dicembre Per la precessione Il 31 dicembre Assiamo allo spumante Ebbene Io sono in grado di mostrarvelo In anteprima Eccolo qua Questo è il vaccino anti-covid In anteprima assoluta Questa è l'unica dose Al momento esistente Di vaccino anti-covid Arriva fresco fresco Dallo Spallanzani E' testatissimo E' efficace C'è una cosa che funziona Dicevo Il vaccino esce il 2022 Quasi 2023 Comunque il pavimento di questo studio Da stasera è immune Quindi se non mi dispiace Lo leccherei un po' Grazie a tutti Scusate Ma leccatina E vado via Grazie Sfero